Sono adesso in compagnia del signor Marco Melli, Stealth Area Manager di Navatta. Signor Melli, buongiorno, anzi buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Quali sono le novità di Navatta di quest'ultimo periodo? Ma che noi abbiamo un impianto completo di bustine con spirali che presentiamo qua per tutto il mercato del Medio Oriente, la riempitrice asetica senza bocchiello che è una novità che andrà progressivamente affermandosi. Per quanto riguarda invece il Gulf Food Manufacturing e il mercato locale, cosa state presentando alle aziende della zona? I nostri impianti di rilavorazione pomodoro e gli impianti di lavorazione pure naturale di mango. Quanto è importante per voi il mercato del Medio Oriente? Molto importante. In crescita c'è da sempre e tutti gli anni una buona percentuale del fattorato ed è un'area che comunque sia per la crescita della popolazione che per l'evoluzione verso la qualità ci interessa molto. Siamo alla fine della prima giornata. Qual è la sua impressione per quanto riguarda il Gulf Food Manufacturing? Io ho avuto diversi buoni contatti da potenziali clienti competenti che sapevano quello che volevano e che cercavano un miglioramento della qualità, perciò penso che qualcosa possa sfociare in qualcosa di concreto. Un mercato ricettivo? Sì, sicuramente. Grazie a loro e buon lavoro. Grazie a lei, una salute e buon lavoro. Grazie a lei, una salute e buon lavoro.